E poi alla mia destra c'è Antonio Abati, avete avuto modo di gustare le sue canzoni, non foss'altro per la timbrica, quasi uguale diciamo al nostro grande Mino e lo fa la signora Carmela Lizzi, o se meglio volete la signora Carmela Attachi e fa così. La Forza della Musica ringrazia l'artista Antonio Abati per aver partecipato alla quarta manifestazione musicale, ricordando Mino Reitano e le sue canzoni. Prego, un applauso fortissimo! Grazie, potete quindi guadagnare l'uscita.